Ci è stato chiesto di prendere in affidamento questo comune, come sempre abbiamo detto che eravamo e siamo disponibili per dare una mano dove ci viene chiesto, anche perché la solidarietà ha bisogno di essere organizzata, altrimenti può persino rischiare di intralciare i tempi più celeri possibili, come diceva giustamente il commissario Errani. Qui abbiamo detto al sindaco da subito, perché siamo arrivati subito, che siamo pronti a fare la nostra parte per contribuire alla ricostruzione, in particolare a quella pubblica dove viene chiesto, tant'è che stiamo lavorando velocemente perché è un centro polifunzionale da un lato e la scuola dall'altro, possono trovare una dimensione nella quale i moduli con riscaldamento ci possono essere fin da subito. Abbiamo censito da tantissimi comuni dell'Emilia Romagna la disponibilità di inviare, e già sta succedendo, tecnici per fare il censimento dell'agibilità di tutte le strutture, quindi anche quelle private. Quindi lo facciamo qui, ma abbiamo dato la disponibilità, e succederà così, di inviare i tecnici dei vari comuni ovunque laddove serva. Come non condividere ciò che il governo, il commissario Errani e le regioni hanno deciso di fare, cioè quello che è accaduto in Emilia? Il fatto, la filosofia credo giustissima, è che le persone tornino a vivere, a lavorare, a studiare, a pregare, a incontrarsi dove lo facevano prima. È evidente che questo avrà bisogno di tempi, ma io condivido il fatto che comunità così già colpite da un dolore talmente grande non possano perdere la loro identità e dunque non essere sradicate dalla loro terra e le loro radici. Questo accadrà, questo per noi è la filosofia più giusta, e siamo impegnati a dare una mano perché l'abbiamo sempre fatto nella nostra storia, ma anche perché noi nel 2012 abbiamo ricevuto tanta solidarietà da altre parti d'Italia ed Europa e noi la vogliamo restituire tutta. Sì, il lavoro sta procedendo, abbiamo fatto il punto col sindaco, qui c'è la regione Emilia Romagna, il presidente, e tutta la colonna mobile stanno già facendo cose importanti, che poi il presidente e il sindaco vi racconteranno, perché io andrò in un altro comune. Allora, sapete che la prima fase è la chiusura dei campi TELDA. Questo non per una decisione astratta, ma perché le condizioni meteorologiche in relazione alla qualità della vita che dobbiamo assicurare ai cittadini non consentono di tenere per lungo tempo i campi TELDA. Allora, sapete che la prima fase è la chiusura dei campi TELDA.